direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del nuovo super enalotto e la sua innovativa formula di gioco oggi giovedì 18 maggio il jackpot ha raggiunto la cifra di 45 milioni 787 mila 281 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 59 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 19 siamo al secondo numero con il nuovo super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 61 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 70 il quarto numero estratto è il numero 87 adesso scopriamo il quinto numero che tra le porte ha le grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 1 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sassina vincente il sesto numero estratto è il numero 47 dopo i sei numeri che assegnano jackpot passiamo ora l'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme al 5 e il numero della sassina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 37 controlliamo insieme la sassina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 19 61 70 87 1 47 il numero jolly è il numero 37 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 e ora procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite supera una lotta fino a 100 volte premi anche lo 0 e l'1 le sfere stanno rotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 60 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 59 in ordine crescente 1 19 47 61 70 87 numero jolly 37 superstar 60 e l'estrazione di oggi giovedì 18 maggio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 45 milioni 700 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati abbiamo appena estratto i numeri vincenti del concorso numero 59 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del nuovo superanalotto assegna 375.337 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 45 milioni 700 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di superanalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 46 milioni 800 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 3 e vincono 53.116 euro ciascuno i 4 sono 614 e vincono 261 euro ciascuno i 3 sono 21.886 e vincono 22 euro ciascuno i 2 sono 326.408 e vincono 5 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 11.811 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella l'unico 4 stella si aggiudica 26.161 euro i 3 stella sono 74 e vincono 2.224 euro ciascuno 100 euro vanno i 1.323 2 stella 10 euro agli 8.500 1 stella e 5 euro e 17.023 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi il nuovo super analotto vi da appuntamento a sabato 20 maggio e giocheremo per un jackspot di 46.800.000 euro arrivederci a presto